La performance di Licia La Nera al Teatro Morelli di Cosenza e di quelle che restano impresse nella memoria. L'attrice è padrona della scena calata in una dimensione disegnata da luci, effetti fumogeni e dalle movenze della protagonista. Lo spettacolo scorre sulle musiche originali di Tommaso Xerti Danissi, suscitando nel pubblico emozioni sensoriali e suspense nel percorrere questa sorta di tunnel invisibile tenuti per mano dall'unica interprete dello show. È uno spettacolo che parte, utilizza come pretesto, proprio pre-testo, le fiabe di Grimm e Andersen alcune, 4-5 Cenerentola, Biancaneve, insomma delle fiabe molto famose nelle loro versioni originali e insieme viene raccontata un po' l'inquietudine di una notte insonne, perché la protagonista ha difficoltà nell'addormentarsi e quindi queste fiabe così nere, così splatter, perché le versioni originali di Grimm e Andersen sono veramente forti, soprattutto di alcune, diventano in realtà un ulteriore motivo di inquietudine notturna e non un modo per addormentarsi lietamente come si fa con i bambini. The Black Tale Tour ha aperto la stagione del Mor, diretta da Settimio Pisani, Saverio La Ruina e Dario De Luca della Compagnia Scena Verticale. Prossimo appuntamento il 21 dicembre. Salvatore Bruno per la CNews24.